Che cazzo è? Ma fa bocca mamma Il merda, cazzo di merda Il merda Ah no, vabbè, è un'arma a 106 E' a 140 Tu, vuoi diventare ricco su top del mondo? Beh, su alle game Oppure, vediamo un po' I tuoi amici ti insultano, ti sfottano Perché non hai skin, sei povero? C'è alle game Dove puoi trovare account, account, Fortnite, skin, OG Di tutto Vuoi diventare un pro player di FIFA? Battere i tuoi amici su FIFA? Compra i crediti su alle game Oppure, vediamo un po' Tu, vuoi giocare a qualche youtuber? Vuoi incontrare ad esempio me? No problem C'è il pack X Mother Lo acquisti e va raccontinato da me in persona Oppure pack Mr.Pedda per incontrare Mr.Pedda Allora, Klaus Tutto C'è tutto Andate su Fale Link in descrizione E te Pando Eh, che cazzo vuol Io non sto dicendo provaccio Perché tu non lo stai dicendo invece? Io vorrei tanto scambiare con lei Però, cioè, seriamente, no? Ah, seriamente? Come sempre, no? Ovvio Che pensi? Che stai? Mi cerco di non vuoi più svegliarsi Ma ti stai zitto o sei stonato? Ma ti stai zitto, per nudo Ma non ti ho bisogno di, di, di... Eh, allora io non troppo un cazzo Per me sì Ma no, poi devi aspettare un momentino, piano Mi vuoi dire innanzitutto cosa mi scambi? Io? Eh no, io Sta ceppa de cazzo Ehm, altro? Non ne hai? Sì, la figa Ma cosa ti mi piace? Quanto cosa vuoi per cosa? Vincenzo, via qua E dagli alla figa Ma vingendo c'è un pisallone, so Non lo spero No, l'hai visto tu? Quanto... Circa Mi dissocio Circa? Tu che hai visto? Circa quanto ti ne vincenzo? Sì, mi regalo di conseguenza Mamma, mi ricordo una volta Stavo in videochiamata Perché fai videochiamate con Vincenzo? No, no, tanto tempo fa E Vincenzo Adivati fuori il cazzo Io mi dissocio È vero, Vincenzo Adivati, cazzo Ma quindi Allora Ci sono, ci sono Cos'anni scambi Si può scelare Questa più a 144 No, ne vengo tantissime C'è C'è Anche 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 Questo qui a 155 No, non mi spara Ma, non mi spara Ma, non mi spara Oh, oh Capito? Eh, ti posso Ah, ok Ti posso dare Questa qui 144 Cosa? il ragazzo ma ben però un altro c'è due armi così giunto scompa da due anni si per far vedere che siamo che si è diventato serio non sei più un truffatore ma io non tu vorrei sono il forte del mondo c'è allora qual è la seconda arma che mi vuoi regalare regalare la barra sta bene scambio 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 nocturno e questo qua fanno bene un'idea di pernessi più e voi per me segnante per me sì ma per la sita ritorna è sempre occupato cazzo non ho messo la mia bella skin vabbè non c'è dammi per me si muoviti però troppo per potete permesso non ti preoccupare non ti truffo amici di infanzia prima diventate seri no tu sei serio sospetto infatti il vostro non è un po' non si troppo troppo nooo domande per me ma ti voglio un po' non mi fido l'ipo san mego un sanno mettermi e si è un gruppo di caccia ma la c'è una prima volta piccato hanno aspettato hanno già permesso a rio se si l'anima chitte stramorte quanto posso godere sto pezzo di merda che vuole fotte col king la famo cam mamma tolto ecco me non avevo sbagliato numero ecco mi troppo scusi dove troppa vincenzo ma questo qui non ha droppato le armi dice le mie armi o vincenzo prima che ma che cazzo ne so è stato vincenzo ma che sarà bacio tenuti permessi in cento scusa e manco io guarda c'è stato un fantasma c'è stato sì 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 ma vincenzo perché c'è mi vede dove stanno le mie armi ma l'altro c'è l'ho troppato non le troppate ma c'era vincenzo quel cornuto mai tu apri apri ma ho troppato cioè mi hai detto che stesse c'è troppato non ho troppato ma non hai troppato ah no ma dimmelo prima no e poi vieni che ci pensavo di strutto prima io non me ne raccorta è comunque mamma che ritardate che se si affetti l'opportuno ce l'ho quasi si può andare a troppare al piacere però è per me sì per me si franno poi prima come si dice prima insomma hai capito troppa un'arma un'arma tipo troppo quanti deve essere ma va bene che cazzo fa il bimbo di merda no ma non ho fatto niente ma non ho fatto niente ma non ti stavo aprendo qua mentre prende a scambiatità ah è vero mamma che puzza di merda fammi respirare un po' questo è una colla per questo aperto ma è qua 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 però ti dico fare il minimo 100 armi a signore troppo due comunque non sono più così tanto ricco se io sono da impallimento sono fatto uno lo sa ma io sono da dove impallimento costruito ci manca un muro non so il motivo ogni tanto fa un po dire superazioni cantava mi manco stagio tranquillo 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 con le armi che abbiamo concordato mannaggia cazzo dove cazzo cazzo di merda allora cazzo che la luce va già a padre va beh se vabbè salta ma si 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 o mi risultati ho saltato anche perché la roba scusa ma no ma mi sta facendo incazzare vieni qui vengo qui vengo vengo potreste troppare ma ti vuoi fottere il king ma in realtà se non andiamo vedendo la visuale perché non ti vedo un video il king sai chi è mister pedo ma fa anche mister pedo un bot il king ce ne sono uno e sono io che magari stanno il mondo giochi sono tu e nessun altro forse sì forse no sono proprio i soldi che trovi nelle missioni quelli doppia forse ma vabbè non puoi troppare adesso per piacere anno a 4 e poi è troppato se la presto è scusa scusa buggato sto gioco e salta un bambino non c'erino ma io ne ho troppate due però no no pure io due cazzo di sembra uno è una dentro il mio culo però non vedi no o salta ma sto soltanto non mi allontano un po così non è troppata uno comunque no no 1 2 2 apri e 1 va bene apri la ripresa no no vieni succhiami le palle pezzo di merda cazzo cazzo è un arma 106 e 144 ma non mi hanno dato che né cercare di sfollando questa volta non solo e verso le armi primamente stava a telefono però ma secondo te io per andare a palazzo non vaga tutta la parte stava comunque qua stavo vedendo non teno le cuffie ma io sto vedendo è mamma che cazzo no 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 ma vedi che allora io ci stavano le armi qui e detto che me le regalami io ho preso in prestito e te le libero e gambe ti posso dire una cosa mi ha detto vado e mi avete il fatto e questo è il mio vendetto i pezzi di merda ma c'è troffato un po' di ora e non sono troffato farebbero una figura di merda a marzo e le mani per la foto vabbè non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo che chi fa no vabbè vabbè dovrebbe essere un posto appoggio anche se lo sapevo tutti i pali dai a guarda da parire va quindi sapevi che fa quindi per pure la parte ma ma c'è doppia mente un fallito sei apposta amore è stato un piacere da sai da cosa ho capito si si chiama favore e ragazzi che dire mi ha atturfato mi sono vendicato almeno diciamo eh l'arma è mezzo ma c'è piada dovunque seguitemi su instagram che stiamo quasi 2.500 follower che facciamo qua siamo 1.600 calmo ci riesco siamo a 16.000 su instagram siamo solo 2.500 il caso seguitemi non vedevo io voglio bene un bacio grazie 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 grazie